Non ce posso credere ragazzi, io non ce posso credere, li piavate per matti, li piavate per matti, io no, io lo sapevo, io lo sapevo che sarebbe potuta succedere una cosa del genere, il Liverpool sta vincendo 4-0, ribaltando completamente il parziale dell'andata, 3-0 per il Barcellona all'andata, attualmente 4-0 per il Liverpool, questo risultato qualificherebbe in finale, in finale di Champions League proprio la squadra di Klopp, ciao bella a tutti da me, seguiamo insieme questi ultimi 3 minuti scarsi, no 3 minuti e mezzo di gioco perché veramente ragazzi stiamo per riscrivere nuovamente la storia, lo scorso anno la Roma contro il Barcellona, siamo andati lì in casa, abbiamo preso 4 per e ne abbiamo fatta solamente una, a ritorno a Roma siamo riusciti a fare 3-0 e siamo passati noi, ma qui è ancora peggio perché c'era il punteggio di 3-0 dell'andata, ma soprattutto chi vince questa va in finale, buoni tutti perché il Barcellona mancano due minuti, adesso sta provando ad attaccare, gli serve assolutamente un gol, non ce la faccio manco io a parlare, sono emozionatissimo per loro perché sto rivivendo quello che ho vissuto lo scorso anno con la mia Roma, a dimostrazione del fatto che comunque i miracoli sportivi a quanto sembra non sono una cosa che accade una volta nella vita, potrebbe succedere due volte nel giro di un anno, che è successo? Un calcio di punizione, primo tempo comunque in cui è stato sicuramente più equilibrato, il Barcellona ha creato, Alisson in un paio di occasioni ha salvato la situazione, Liverpool che passa in vantaggio con Oricchi, ma poi ragazzi, Wijnaldum, Wijnaldum, Wijnaldum nel giro di poco fa una doppietta di quelle esagerate, una doppietta che ha regalato a livello psicologico quella spinta, è sembrata veramente una partita simile a quella della Roma, a livello psicologico è cambiato tutto, ma lo stadio ragazzi, i tifosi che hanno cantato dall'inizio alla fine hanno dato una spinta di quelle incredibili e li stanno portando verso un sogno, la seconda finale di Champions League in due anni per il Liverpool, ma soprattutto senza Firmino e Salah, i due giocatori di punta di questo Liverpool, a dimostrazione del fatto che non serve un giocatore più importante o meno, serve anche quello, ma conta soprattutto lo stato psicologico, Klopp l'ha detto, eccolo Salah, eccolo Salah, eccolo Salah, sono contentissimo pure per lui, sei un grande, sei un grande, tacci tua che te ne sa nato, ragazzi veramente è una cosa di quelle incredibili, ma soprattutto dovesse finire così e mancano 20-30 secondi, 20 secondi non ce sarebbe dopo tanti anni una vincente in Champions League spagnola, allora gli ultimi tre anni Real sicuro, quattro anni fa mi pare il Barcellona e quello prima ancora un'altra volta Real Madrid e poi il Bayern Monaco se non mi ricordo male, Chelsea e via dicendo, ragazzi l'hanno fatto, ragazzi l'hanno fatto, ragazzi sono in finale di Champions League, sono in finale di Champions League, io non ce posso credere, questi sono nati in finale, e mo chi cazzo ce va, domani tra Tottenham e Ajax dovessero andare in finale, Ajax e Liverpool io non saprei perché tifare, vi dico la verità, ho sempre avuto un'eccitazione per il Liverpool, li ho sempre tifati, stimati, è una squadra che mi piace tantissimo, così come l'Ajax per quel che ha fatto vedere, ragazzi speriamo che domani riesca ad andare in finale e non me ne voglia, chi simpatizza per il Tottenham? Questo è tutto, ci vediamo alla prossima con un nuovo video, i miracoli esistono e non esistono una sola volta, si possono ripetere, sempre la stessa squadra, però lo ripeto, secondo me se sono un po' cagati sotto, hanno iniziato a sentire la pressione, proprio Jordi Alba l'altro giorno ha detto no non c'ho paura della partita di ritorno contro il Liverpool perché tanta Roma è uscita, quindi ecco per fortuna, il Liverpool is the new Roma, bella!